Pronto, salve, parlo con lei professore, anzi sei tu professore? Sono io in persona, buonasera a te, intanto grazie per la tua disponibilità, la tua gentilezza, in questi giorni sei stata una persona veramente meravigliosa. Però io volevo in questo primo nostro incontro, che durerà una trentina di minuti circa, poi nel tempo parleremo di quella che è stata la storia del Parco d'Abruzzo e di quella che è l'attuale situazione e di quello che sarà, si spera, roseo, futuro per l'orso massicano. Intanto per chi sta appunto ascoltando, vedendo questo video audio in realtà, perché è un video dove si ascolta appunto quest'audio, ma non è un filmato ed sarà messo insomma su tutti i social, tra cui il nostro canale YouTube. Quindi abbiamo con noi in questo incontro il professore Franco Tassi. E' difficile dire chi è Franco Tassi, perché Franco Tassi è il mondo, è conosciuto in tutto il mondo, è così, è il mondo, perché tu sei conosciuto in tutto il mondo, sei stato per ben 33 anni, 33 anni, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Poi sei docente, ho studiato, professore, sei docente di ecologia, studioso, ricercatore, naturalista, manager e giornalista e scrittore. Poi hai circa 200 pubblicazioni scientifiche, hai scritto, oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Sei stato docente all'Università di Camerino e di Napoli e sei un giornalista freelance dal 1968, hai collaborato con testate nazionali come la Repubblica, il messaggero del giornale d'Italia, Epoca, Airone, eccetera, eccetera. Inoltre sei stato anche consulente anche di ministri dell'ecologia e dell'ambiente. Allora, quello che io ti chiedo, Franco, ma come ci si sente ad essere il professor Franco Tassi? Ma adesso mi sento che vedo, abbiamo cercato di seminare molte piante e spero che germoglieranno. Certo la situazione che vedo oggi in Italia sull'ambiente non è che mi conforta molto. Io avrei sperato che i parchi decollassero in un modo molto più sicuro, molto più protetto e invece il rischio è che tutto il lavoro fatto poi venga in qualche modo caducato perché i parchi all'inizio di questo secolo andavano molto bene. Noi vincemmo la cosiddetta sfida del 10% perché l'Italia proteggesse almeno un decimo del suo territorio. Pensate che nel 1980 quando lanciamo questa sfida non proteggeva che l'1,5%. A fine millennio, quindi all'inizio del terzo millennio, l'Italia proteggeva il 10% e più. Quindi la sfida fu vinta. Il problema è cosa succederà ora. I parchi sono fondamentali, sono un'infrastruttura essenziale per un paese civile, però non mi sembra che le istituzioni italiane riservino ai parchi la cura che meriterebbero. Voglio leggere una frase che dice come sono percepiti i parchi da persone che hanno veramente capito cosa rappresentano. Leggo una frase di Giorgio Celli, purtroppo scomparso, un caro amico che era anche un famoso presentatore televisivo di programmi naturalistici. Lui disse questo. I parchi non sono solo luoghi ecologici di privilegio, grandi aule scolastiche all'aperto per insegnare ai giovani l'amore per la natura, ma sono simboli della nostra speranza che tutta la biosfera si muti in un luogo di reciproca coesistenza tra uomo, piante e animali, vincendo la sfida del futuro. Mi pare che è meglio, non si potrebbe definire l'essenza dei parchi. E allora perché l'Italia non fa così attenzione a questo gioiello di cui dispone e che significa veramente un indicatore di civiltà? Diceva Roosevelt, la civiltà di una nazione si mostra e è dimostrata dal modo con cui protegge i propri parchi nazionali. Ecco, credo che questo definisca un po' qual è la missione di chi lavora in questo campo naturalistico. Professore, noi in questi giorni abbiamo avuto modo di scambiarci dei pensieri, delle riflessioni, una lunga dietierata che per me è stata una lezione universitaria privilegiata, perché mi sono sentito un privilegiato. Quella sera, 45 minuti al telefono con te, mi hai aperto un mondo fantastico, fantastico e nello stesso tempo tragico. Perché poi ovviamente approfondiremo nell'arco di questi incontri che avremo. Addirittura si è parlato anche di aiuti dell'Unione Europea su un bestiame che non c'era in realtà. Purtroppo è vero, purtroppo esiste un esercito di truffatori che cerca soltanto di attingere ai fondi europei e spesso ci riesce falsificando carte e dichiarando magari che ci sono dei pascoli utilizzati, ma non è vero. I carabinieri e la finanza ne hanno scoperte parecchie di queste truffe. Poi potremmo anche esaminare… Sì, poi nel tempo li esaminiamo. Si parla di oltre 81 mila Euro in pochi anni. Sì, ma addirittura se andassimo a esaminare un periodo più lungo e un territorio più ampio ci sarebbero cifre molto più consistenti. Purtroppo c'è questo problema. Il problema non è che finisce solo con i pascoli finti, falsi, ma si estende a tanti altri usi truffaldini del fondo europeo. La verità è che questi fondi fanno gola e che si cerca di ottenerli a scopo di conservazione puramente teorico, ma in realtà si fa danno alla natura in tutte le maniere. Quindi su questo potremmo poi tornare approfondendo. Certo, questo ovviamente adesso, come si dice, è un'infarinatura iniziale per dare un pochettino a quella che è l'idea, perché come mi dicesti l'altra sera, mi senti bene, sì? Sì, sì. Ah, perfetto. Come mi dicesti l'altra sera, qui si torna indietro nella storia che dal 2002 a oggi sono stati uccisi nella Marsica 80 orsi, tra avvelenamenti, fucili, investiti. Nel 2007 addirittura spargevano le capre avvelenate. Erano capre avvelenate che hanno ucciso tre orsi più due orsetti che sono stati poi massacrati e abbastonati. Realmente tutto questo veniva tenuto nascosto, ma la cosa è che l'indicatore del fallimento della tutela dell'orso avviene nel 2002, non a caso è il momento in cui cambia la dirigenza del parco e da quel momento gli orsi vengono massacrati, ma non solo gli orsi. Nel 2002 sono stati persi 14 orsi e nel 2003 13 orsi, ma la notizia veniva tenuta nascosta. Poi uscì quando arrivarono i carabinieri del Noe e ci fu una conferenza stampa e allora non poteva più essere nascosto. Insomma, in due anni 27 orsi, non so se mi spiego. E questo dimostra che il parco non assolveva più i suoi compiti. Come mai? Ecco, questo è il vero quesito che qualcuno avrebbe dovuto porsi, ma non si è posto. Però nel frattempo venivano spesi immensi fondi europei. A quel punto là, nel 2007, sembra che ci fossero arrivati già 25 milioni di euro di spesa per le ricerche sullo sommarficano. Allora la mia domanda è, ma quale risultato è stato ottenuto con questo enorme diluvio di fondi? Soprattutto dove sono finiti? Vorrei che qualcuno si ponesse queste domande. Non è un fatto che interessa una o due persone. È un problema nazionale, ma non se ne parla. Ne stiamo parlando noi ora, a distanza di pericoli anni. Ma magari qualche buon cuore della Guardia di Finanza ci sta ascoltando. Professore Garo, quello che non è successo in tanto tempo può succedere oggi, insomma. Sicuramente prima o poi la verità deve venire. È vero che alcune cose sono andate in prescrizione? Sì, ma la condanna morale e la condanna sociale non vanno mai in prescrizione. Se oggi si dicette, è avvenuto questo, i responsabili sono questi. Non importa, noi non vogliamo mandarli in carcere. Noi vogliamo solo che esca fuori la verità. Questo è nell'interesse del futuro dell'Urso, ma anche dei tanti e della stessa Italia. Perché andando avanti, arrampicandosi sulle menzogne, non si arriva da nessuno a parte. Franco, diciamolo chiaramente. Adesso è il momento che venga fuori tutta la verità perché lo dobbiamo ad Amarena. Io credo che sia questo il punto fondamentale perché non dimentichiamo tutti gli orsi morti, non dimentichiamo l'orso Mario che non si sa in quale pentola è finita. È finito perché io sono convinto che questo è accaduto. Non dimentichiamo Gioan Carrito che è stato ucciso, addirittura io mi sono sentito dire che la macchina andava a 30 km orari. Beh, può darsi pure che gli asini volano, ma io non li ho visti volare. No, assolutamente. Ci sono stati dei piccoli incidenti in cui un orso è stato in qualche modo urtato da una macchina che andava piano ma non si è fatto niente, si è andato via un po' spiato e basta. Infatti tra l'altro ci sono dei video che hanno messo i Rangers americani con orsi che hanno più o meno la stazza di quelli nostri a 70 km orari, a 60-70 km orari l'orso si è rialzato ed è andato via. Sì, appunto, poi dipende anche dalle modalità dell'incidente oltre che dalla velocità. Però, appunto, ma qui è stato tutto un continuo tentativo di falsificare la realtà, nascondere la verità. Quando nel 2007 furono avvelenati tutti quegli animali, poi non solo gli orsi, ma cinghiali, lupi e perfino animali domestici, mettendo del veleno, mettendo delle capre imbevute di veleno. Questo accadeva tra Pesca Sero e Gioia dei Marsi. Pesca Sero e Gioia dei Marsi. Quindi in zone proprio centrali del parco, nel cuore del parco, dove tutto dovrebbe essere sotto il massimo controllo e nulla può sfuggire lì. E allora cosa avvenne? Che due orsatiotti, evidentemente figli dell'ursa avvelenata, di una degli orsi avvelenati, si sono trovati soli, perché loro non avevano mangiato la capra avvelenata, in quanto erano ancora nella fase di spezzamento, non vanno a mangiare la carne, sono ancora un po' allattati, la mamma insegna nel primo anno a mangiare qualcosa raccogliendo sul terreno insetti, funghi, bacche, eccetera. Allora, questi orsatiotti evidentemente si sono lasciati avvicinare, poi sono animali molto curiosi, giocherelloni, si saranno avvicinati agli avvelenatori e questi li hanno massacrati abbastonati e poi li hanno buttati sulla strada dicendo che sono stati investiti dalle macchine, ma è stato subito evidente che non era vero. Quando la cosa è esplosa, è venuta fuori, addirittura qualcuno si è inventato la storia che fossero stati uccisi da un maschio, mentre se un maschio li avesse uccisi, cosa che non è mai avvenuta nel parco d'Abruzzo, è un fatto veramente che può avvenire con il grizzly che è molto più feroce, carniboro, quindi può essere molto diverso dal Vaticano. Bene, quando li hanno guardati a fondo, si è visto chiaramente che non erano né investiti da macchine né avevano i segni di animaletti uccisi, azzampate da un grosso orso, erano stati ammazzati e abbastolate. Questo dice qualcosa a due passi dalla sede del parco. Dalla bestia umana. Sì, ma a due passi dalla sede centrale del parco e dal luogo dove tutti si muovono, sanno, vedono e raccontano, per cui alla fine la verità è uscita, però non se n'è più parlato. Quindi, tornando al discorso degli orsi, non c'è dubbio che, io parto da quando non c'ero più, ma sono notizie da verificare ovviamente, ma la stima più attendibile parla di oltre un'ottantina, per quanto risulta di orsi uccisi. Se non ci fosse stata questa situazione di disordine, di caos nel parco, molti di quegli orsi sarebbero ancora vivi. Certo, qualcuno poteva essere anche morto o arrivato a un'età, diciamo, troppo avanzata. Teniamo presente però che quando muoiono per cause naturali, per vecchiaia, non si trovano mai, vanno a morire in posti nascosti, non in mezzo alla strada, evidentemente. Ho capito. Quindi Mario potrebbe essere morto di vecchiaia? Potrebbe anche. Io non lo so, ma certo non ho seguito tutti i casi. Del resto, questo sarebbe un'indagine che, ecco, con i soldi dell'Unione Europea, la prima cosa da fare era un'indagine approfondita su questo. Poi la prima cosa ancora più importante sarebbe sapere quanti soldi sono stati spesi per l'operazione, per la ricerca sull'orso marzicano. Io ho detto 25 milioni, perché c'è stata un'inchiesta giornalistica nel 2007, ma da allora sono passati tanti anni. A questi soldi che risultati hanno prodotto? Io mi domando se nell'amministrazione, sia nazionale del Ministero dell'Ambiente, del Governo, ma anche quella europea, mi fa mai un conteggio, un calcolo dei costi benefici. Io spendo un'immensa cifra. Quale risultato mi portasse? Io non ho sentito nessuno dire questo e porsi questo problema. Franco, io ho notato invece che l'attuale, la von der Leyen, addirittura che lamentava qualche tempo fa che un lupo aveva sbranato il suo pony, ha tanta voglia di riaprire la caccia al lupo e questo è un pessimo segnale di questa Europa dove abbiamo un infiltrato che si chiama Fiocchi, che è un parlamentare europeo. Di conseguenza ci sono degli interessi veramente trasversali che non fanno bene ai selvatici. Io sinceramente non vedo un futuro tranquillo per orsi, lupi e tutto ciò che riguarda i selvatici. Sicuramente, ma devo dire quando affrontiamo questo problema generale cioè come orsi di fronte ai grandi predatori che stanno aumentando e diffondendosi in Europa perché oggi i lupi che erano scomparsi dalla Germania sono circa 20 mila in Germania e il ricercatore che se ne occupa ha dimostrato che sono molto utili. Sono utilissimi per tante ragioni. Uno, che controllano l'eccessiva espansione di unculati come incendiale che è quello che fa veramente molti danni alle colture. Secondo, perché se noi abbiamo popolazioni di cerchi e caprioli che si moltiplicano continuamente avremo la distruzione delle foreste. Il lupo invece evita questo perché mantiene le popolazioni a livello fisiologico accettabile. Non solo, ma gli esemplari che lui elimina sono quelli vecchi e invati. Quindi in qualche modo attraverso la selezione naturale di Darwiniana Memoria lui assicura che l'ecosistema continua a essere equilibrato e funziona. La mania di dire ammazziamo un po' di lupi ha contagiato anche i francesi ed è un errore gravissimo. Ma in realtà è una specie di boccone che danno ai cacciatori per accontentarli, a chi protesta di dire te ne faccio ammazzare qualcuno. Ma è controproducente per tante ragioni che potremmo spiegare. Il discorso sarebbe lungo. Però la vera domanda da porsi è ma perché fanno questo? Per due ragioni. Lo dico subito. La ignoranza e la malafede. Qualcuno mi dice ma è più malafede o più ignoranza? La mia risposta è fissi, fissi. Metà e metà. Perché c'è anche molta ignoranza. Chi decide queste cose crede che eliminando cinque lupi ha risolto il problema. Non ha risolto niente. L'ha aggravato. Perché quando un lupo a capobranco non c'è più ed è stata eliminata tutte le femmine si riproducono per compensare la perdita nel branco. Quindi aumentano il numero. Lupi che si diffonderanno ancora più ampiamente. Questa è la verità. È stato dimostrato da tanti studi scientifici. Quindi è un errore gravissimo dire ammazzo un po' di lupi. Lupi conterranno la loro posizione in rapporto al cibo disponibile. Se non c'è cibo andranno in un'altra zona. Ma non è che si espandono illimitatamente. Chi si espande illimitatamente sono gli ongolati e abbiamo l'esempio del cinghiale che non c'era più in Italia. Oggi ce ne sono migliaia. Certo. Professore, ci avviciniamo verso la parte finale del nostro incontro e io volevo parlare di Amarena perché Amarena è un'ossa che ha segnato nel cuore tutti come i precedenti ma Amarena era ed è qualcosa di speciale per tutti noi che l'amavamo. Amarena è stata uccisa vigliacamente sparata alle spalle da un bracconiere un killer che si chiama Andrea Leonbruni e il problema che io mi pongo è questo il controllo delle armi perché uno che non è cacciatore cosa se ne fa di avere un fucile da caccia a casa e le cartucce se non vai a caccia le cartucce non servono ma questo lo dico anche da diciamo tra virgolette da esperto nel senso che per anni facevo gare di tiro a piattello con il fucile e io avevo le cartucce il momento in cui andavo nelle piattaforme a fare sport perché quello è sport quello si chiama sport lancio il tiro a piattello poi si parla di cibo facile abbiamo parlato l'altra volta al telefono del famoso diciamo affitto di camera con vista orso è vero che c'è questo vizio di alimentare gli orsi per attirarli per fare pubblicità al locale di turno per fare pubblicità alla zona di turno ma è anche vera una cosa che questi orsi sono morti perché l'uomo li ha sparato perché l'uomo li ha investiti allora Amarena cosa ci insegna oggi questo vuoto incolmabile certo io credo che il caso di Amarena è un caso speciale perché effettivamente ha suscitato un'ondata emotiva come non c'era mai sciata molta gente che non si era mai occupata degli orsi e tantomeno degli orsi massicani ha avuto diciamo una emozione grande nel vedere un orso a madre con i cuccioli che poi viene eliminata in barbara maniera la cosa però ci riporta a una fase precedente di cui non si parla mai quando si dice che gli orsi vanno a cercare cibo vicino all'uomo vicino ai villaggi si dice solo una parte della verità io domanderei perché abbiamo un filmato di un documentario televisivo che venne fatto nel 69 quindi quando io avevo appena assunto la direzione del parco che mostra i giornalisti della televisione che vanno alla ricerca di l'orso e non riescono a vederlo dopo giorni di ricerche non sono riusciti una volta l'orso stava lontanissimo evitava l'uomo in tutti i modi come mai a un certo punto ha cominciato ad andare nei pollai nessuno si pone questa domanda la domanda ha una risposta molto semplice perché i ricercatori misero delle esche olfattive sulla base di pollo nutrito di pesce di cascami di pescheria l'orso non aveva mai esplorato l'interno dei villaggi montani alla ricerca di pollai ma quando si è incapricciato come dico io perché ha sentito l'odore e gli è piaciuto il sapore di questo pollo quando ha sentito che c'era questo odore nei pollai dei villaggi perché l'orso è un fiuto eccezionale lo può sentire a due chilometri è andato nei pollai i pollai sono nei paesi dove gli anziani tengono qualche gallina per portare l'ovetto fresco ai nipotini e quindi ecco che è nato il problema degli orsi che oggi chiamano confidenti o problematici in realtà è sbagliata questa definizione gli orsi vanno chiamati viziati deviati guastati le termine anglosassone spoiled questi sono orsi che l'uomo ha rovinato il vero problematico è l'uomo ma nessuno dice questo nessuno dice questo allora il problema è che l'orso va ricondizionato e riportato verso la vita selvatica ma nessuno si chiede come mai stava nel cuscino ma un orso in quel periodo deve stare in alto deve stare nelle zone dove troverà la tana in montagna evidentemente era giù per ragioni alimentari perché l'avevano attratta con il cibo da una parte dall'altra alla fine ha perso completamente i suoi territori poi ha perso anche la vita come sappiamo quindi diciamo quella che è l'ipotesi che si ipotizza sui social che Amarena possa essere stata attirata con della carne di agnello di pecora in quella zona non si capisce per quale motivo anche se poi il finale è abbastanza chiaro però ovviamente è un'ipotesi giornalistica è un'ipotesi fantasiosa diciamo quindi potrebbe comunque essere un'ipotesi che si potrebbe avvicinare alla realtà cioè Amarena potrebbe essere stata attirata con della carne non c'è dubbio è stata deviata allora i motivi di questa deviazione possono essere diversi il primo è quello della ricerca storicamente il primo è stato quello non c'è dubbio che risale diciamo oltre vent'anni fa veniva fatto dai ricercatori da alcuni ricercatori perché l'orso che va a mangiare questa esca che era piazzata sul filo spinato e passa attraverso il filo spinato viene in qualche modo estirpato qualche pelo e se il pelo è intero con il bulbo si può fare il cosiddetto genetic fingerprint l'impronta genetica quindi l'analisi ci darà il DNA di quell'orso e noi sappiamo che c'è l'orso A l'orso B l'orso C questo non c'è dubbio secondo motivo non meno importante di cui non si parla è che alcuni fotografi e diciamo operatori si sono insediati nelle zone del parco per attirare gli orsi e fare pagare la gente per andare a vederli da vicino e fotografarlo questo è noto li attirano in certi punti anche i lupi fanno anche così con i lupi poi dicono alla gente venite vi facciamo vedere il lupo vi facciamo vedere l'orso ve lo facciamo fotografare a 10 metri ma no non è possibile sì venite pagate e venite io ho sentito scusami Franco scusami che mi sono permesso di interromperti ma volevo inserire questa cosa perché hai toccato un tasto che veramente c'è da discutere ci dedicheremo una puntata a parte perché si parla addirittura sulla zona del Fucino c'è stato un periodo in cui qualcuno lasciava le carcasse di pollo per poi fare servizi giornalistici o servizi documentaristici può darsi però ecco appunto dico qualcuno visto che c'erano tanti soldi e c'erano milioni e milioni da stelle forse dovevano essere dedicati a creare una task force un'equip che monitorasse che controllasse questo che portasse un rapporto e individuasse i responsabili avrebbe stroncata subito questo malaffare perché effettivamente è una cosa che avviene ma di cui nessuno parla però attenzione se si va nei paesi la gente lo sa andate a pesca sedoli parlate con la gente lo sanno tutti quindi non se ne parla come avviene negli ambienti dominati dall'omertà e dalla mafia però esiste e lo stesso si può dire delle capri avvelenate e degli orsi che sono morti in quel posto ma non era difficile individuare i colpevoli dico chi può aver messo delle capri avvelenate in un punto dove ci sono delle mangi di vacche che pascolano abusivamente saranno stati i portuali di Mestre o saranno stati i metalmeccanici di Milano no domandiamoci queste cose le domande sono semplici le risposte anche ma nessuno le vuole sentire queste cose ma sono domande che noi comunque possiamo sempre formulare perché chiedere è lecito perché io in molte situazioni trovo un cognome che ricorre un tale Tatangelo addirittura che era stato preso con le mucche nel parco insomma quindi questo questo allevatore ovviamente con tutto il rispetto per la persona però basta andare su Google mettere il nome Orazio Tatangelo e riusciamo un attimino ad avere il quadro della situazione perché la cosa è certa che nel parco ci sono centinaia di vacche che pascolano abusivamente non dovrebbero esserci perché se ci sono delle mande di vacche che pascolano nelle zone frequentate da orsi e lupi è fatale che ci saranno degli assalti e che questi predatori si citeranno di questi animali e allora qual è la soluzione bisogna avvelenare gli animali per la cui protezione è sotto il parco ricordiamoci che il parco d'abruzzo era stato istituito nel 1922 per proteggere l'orso marzicano e il camuscio d'abruzzo questo qualcuno se lo dimentica spesso e crede che sia un posto dove divertirsi a fare tutto quello che vuole ma c'è un'autorità che dovrebbe controllare e stoncare gli abusi ma io professore Franco in questo periodo che sono riuscito grazie anche alla gentilezza di molta gente della Marsica che va da Ortucchio anche ad altre zone Villa Lago che possa essere poi San Benedetto dei Marsi perché anche da San Benedetto dei Marsi dove si dice che c'è tanta omertà in realtà ci sono anche tante persone che mi chiamano che mi spiegano che mi dicono che hanno voglia di dire la loro perché ovviamente non parlo di queste tre zone ma c'è un'area di quella di quella Marsica che pare che ci sia la malavita organizzata ma bisogna vedere a che livello è organizzata che va a braccetto con i bracconieri tutto questo dovrebbe essere oggetto delle indagini e credo che il compito spetterebbe proprio ai parchi e anche ai carabinieri forestali alla finanza per fortuna qualche cosa è stato fatto l'abbiamo letto abbiamo visto che ci sono stati dei sequestri delle condanne ma credo che ci si può stati un po' tardi a svegliarci e forse abbiamo perduto tanti orsi e tante altre possibilità anche per questo io credo che bisogna rivedere un pochino la strategia di difesa dell'animale che è considerato la specie più importante e più in pericolo della fauna italiana l'orcio mazzicano sì anche perché carissimo Franco io penso che la storia di Amarena io personalmente nel mio piccolissimo granello di sabbia farò in modo che non venga dimenticato perché Amarena segna proprio la crisi l'ignoranza di un tessuto sociale che è è in raggiamento totale cioè oramai c'è una subcultura talmente radicata al basso che non riesce a capire l'importanza della fortuna che ha con questi orsi e con l'ambiente è vero l'orso è diventato il simbolo del parco ma anche dell'Abruzzo e questo non c'è dubbio molta gente nel mondo conosce l'Abruzzo proprio per l'orso altrimenti non potrebbe neanche cos'è dicono Abruzzo ma che cos'è però quando si parla di orso lo conosco e infatti bisogna capire anche il valore di grande attrattore ecoturistico culturale naturalistico che ha una presenza animale come questa e io spero che lo capiranno perché poi investire nell'orso significa anche investire nel proprio futuro i territori non avrebbero un futuro se non fossero protetti e non offrissero un'esperienza unica di contatto con la natura Franco io non voglio fare l'avvocato del diavolo però tu sei una persona molto fiduciosa sei una gran brava persona sei una persona molto buona che ha fiducia nel prossimo e nel futuro io invece voglio fare un po' l'avvocato del diavolo vedo talmente tanta ignoranza in alcune fazioni di quel territorio che sono compresi giovani perché è vero ma non è solo quel territorio io direi no in una fazione in una parte di quel territorio perché c'è c'è anche tanta brava gente su quel territorio credo in tutta Italia credo che in Italia ci sia una una specie di come potrei dire di malattia di patologia genetica che si chiama analfabetismo ecologico noi siamo bravi a parlare di tutto per carità parliamo a non finire anzi ascoltiamo poco impariamo poco ma vogliamo insegnare sempre tutto a tutti però una cosa è certa che non abbiamo una sensibilità ecologica quando parliamo di questi problemi non ci rendiamo conto di vivere in una realtà in una biosfera che è fatta di ecosistemi pieni di esseri viventi e che noi abbiamo bisogno della natura non è la natura di aver bisogno di noi e noi invece la natura la maltrattiamo la detrediamo credendo che sia un serbatoio infinito a cui attingere ma forse non ci rendiamo conto di dove stiamo andando noi invece abbiamo bisogno di te abbiamo bisogno del professor Franco Tassi perché non ci siano più casi come quelli di Amarena adesso si è aperta una strada un piccolo sentiero questo piccolo sentiero grazie anche a te dovrà diventare una strada che riesca ad illuminare e a far capire alla gente l'importanza di quella che è la natura l'importanza di quelli che sono gli orsi di quelli che sono i selvatici e soprattutto della fortuna che noi abbiamo a vivere in una regione come l'Abruzzo assolutamente assolutamente d'accordo ma io credo che se si desse in qualche modo una spinta iniziale partendo proprio dai giovani giovanissimi che si facesse frequentare la natura vedere assistere conoscere queste cose rimarrebbero incantati non resterebbero solo legati ai giochi con il tablet eccetera perché è quello che poi che ne cretinisce io penso che avrebbero tanti stimoli per andare a contatto con la natura scoprire tante cose e intraprendere una strada che non può poi portarli altro che alla conoscenza e quindi all'amore e di conseguenza alla conservazione alla tutela della natura perché secondo me Franco bisogna partire da due categorie bambini e ragazzini perché i giovani di oggi li vedo disorientati perché quando apro il televisore e leggo che per una festa di compleanno è stata uccisa a calci una capra per tra virgolette divertimento e allora vuol dire che qualcosa abbiamo perso qualcosa si è sbagliato bisogna ripartire da zero l'analfabetismo ecologico una specie di vuoto mentale una tona d'ombra che dobbiamo illuminare quando si arriva a parlare di queste cose molta gente non sa e non capisce niente però agisce e agisce male allora la colpa è di una società che non sa dare in qualche modo l'istruzione giusta perché non si sa più quella che era l'educazione ambientale educazione ambientale educazione naturalistica dovrebbe essere altrettanto importante quanto l'educazione civica l'educazione stradale l'educazione sanitaria e questa è la prima cosa da fare ma c'è qualcuno che se ne preoccupa non mi pare purtroppo al momento il governo lo Stato diciamo lo Stato perché i governi passano vanno e vengono lo Stato italiano è latitante molto latitante perché queste sono materie che dovrebbero essere messe proprio come valutazione di base quindi assolutamente ma approfondirle approfondirle proprio assolutamente questo si dovrebbe fare poi non è qualcosa di impossibile o di vietato o di costosissimo ecco cioè non ci si può affidare ai privati per fare queste cose deve essere lo Stato certo ma avere tanti fondi europei e non aver capito che una parte andava investita nell'educazione ambientale io ho avuto gli esempi quando facevamo queste attività attraverso i centri di visita di ragazzi giovani dei paesini del parco che rimproveravano i genitori perché dicevano ma papà ma tu sei calciatore e vai a ammazzare i camusci questo è il modo di cambiare la situazione però dobbiamo muoverci dobbiamo essere noi a iniziare a estillare questo germe questo seme che poi porterà dei frutti e altrimenti da solo non avverrà forse avverrà solo quando è troppo tardi quando rimarrà solo un orso allora tutti piangeranno e diranno ah che peccato intanto per la memoria di Amarena perché Amarena non venga mai dimenticata noi questo piccolo percorso lo iniziamo questo piccolo tratto di strada passo dopo passo lo stiamo facendo io ti ringrazio Franco sei una persona meravigliosa che cosa posso dirti posso dirti per il momento grazie spero di abbracciarti personalmente il più presto il primo incontro è terminato e quindi ci risentiamo in privato tra qualche giorno per darci appuntamento per un'altra registrazione intanto questa puntata verrà messa sui social e su youtube quindi chiunque vuole in qualsiasi momento anche seduto bello sul divano se lo può ascoltare va bene? benissimo grazie Franco grazie buona serata e un abbraccio forte ciao tanto ciao 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 ciao